Paronte, Paronte, dove sei? Ma sta, sono qui! Che ci fai io da solo? Stai meditando? Hai finalmente la risposta che attendete? Quello che mi chiede mia regina è praticamente impossibile Lo sa che per lei attraverserei lungo il largo regno scuro ma... Non è impossibile, Paronte, la notte più lunga dell'anno è ormai vicina e noi dobbiamo cercare ciò che nessuno ha mai trovato prima Gli ingredienti della funzione di Aglio Chi si crede è iniezione? Parte di antico stregone Non c'è trazza, non c'è storia Ma sono le dita da morire Chi si Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.